Ok, dimarichiamo le gambe, le portiamo le braccia fuori, ben allenate con le spalle, in questa posizione prendo aria, quando ispiro ruoto verso sinistra e mi piego verso la gamba, accompagnando la mano all'esterno, il piede, quando ispiro mi torno al centro e quando ispiro ruoto e scendo, e non ritengo il posto. Ancora, se ce la faccio, quando scendo cerco di portare fuori la mano che è dietro, ancora ispiro quando passo al centro, ispiro quando ruoto e scendo. Ispiro, posso anche semplicemente ruotare il busto, quindi prendo aria, fuori l'aria, ruoto. Quando ispiro ritorno al centro e quando ispiro ruoto, quindi ritorno al posto. Ancora, in, e des, in, e des, inspiro, torno al centro ed ispirando ripasso, piegando un pochino le gambe e avvicinandole. Grazie a tutti.